Come sapete il Centro Consorzi si occupa di progettazione europea e abbiamo avuto una nomination agli Oscar del APE Agri per quanto riguarda l'Innovation Agri Awards 2024, in cui il nostro progetto potrebbe essere fra i vincitori. Vi chiediamo cortesemente se potete di darci una mano e votare per noi cliccando o meglio inquadrando questo codice QR che trovate qui a lato, ma sentiamo dalle parole della dottoressa Antonella Tormen il percorso che è stato svolto in questi anni, quali sono state le ricadute e poi vedremo un video promozionale di questo progetto per poter anche darci il voto. Grazie mille Antonella, continua così, parola a te. Un saluto a tutti, sono Antonella Tormen, mi occupo all'interno di Centro Consorzi di progettazione e coordinamento di progetti finanziati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, del FESR, del PSR principalmente e sono qui per parlarvi oggi di un progetto, un ship up, che è un progetto che è stato finanziato nel PSR 2014-2020 in misura 16 cooperazione e che è stato selezionato tra i 30 migliori progetti europei nell'ambito dell'APE Agri di questa rete europea per l'innovazione in agricoltura. Il progetto ha inteso accompagnare gli allevatori delle razze ovine venete, quindi pecora, alpagota, lamon, fozza e brogna, in un processo di valorizzazione dell'allevamento e delle produzioni collegate, quindi principalmente carne ma anche latte, lana, sia pure in misura minore. Attorno agli allevatori si sono riuniti una serie di ricercatori e consulenti con l'obiettivo proprio di realizzare un modello integrato di valorizzazione economica per la sostenibilità di questi allevamenti, un modello tra l'altro replicabile anche in contesti montani analoghi e diventa appunto interessante per questo. Come vi dicevo questo progetto è stato selezionato tra 30 finalisti, unico in Veneto e quindi l'invito da parte nostra è di sostenerlo con un voto perché ci sarà poi in Portogallo a inizio maggio la proclamazione del vincitore e quindi c'è la possibilità di votarlo accedendo nell'apposita sezione dell'Eipagri, potrete scoprire qual è questa sezione anche collegandovi al sito di Centro Consorti, nelle news lo troverete e votando appunto, esprimendo il vostro voto per il progetto ShipUp. In questo modo sosterrete soprattutto gli allevatori e questo mondo meraviglioso ma complicato. Il monitoraggio degli animali al pascolo, utilizzando testimonianze, elementi storico-antropologici, materiali grafici, QR code e app per coinvolgere il consumatore in un processo di consapevolezza del valore delle produzioni, sia dal punto di vista economico che ecologico e di sostenibilità in un territorio delicato e fragile, ma di grande valore ambientale, culturale e umano, di cui questi allevatori sono irrinunciabili custodi.